ehi a tutti ragazzi spero di qui con un video oggi siamo a Lignano, a Sape d'Oro vi farò vedere un po' gli skill belle a Sape d'Oro 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 Sì, si muovono. Grazie a tutti. 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 Tu si metti in mezzo. Si metti in mezzo. Si metti in mezzo. Si. Si. Si metti in mezzo. 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 Faccio un gol a riscaldi, grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.